Non si trattasse di un atto criminale, staremo qui a parlare di una prova di agilità e acrobazia. La scorsa notte attorno alle tre, uno o più ladri si sono introdotti nel panificio Bosco Lopapo con sede in via Colombo a Sottomarina, scassinando l'interruttore esterno della Sara Cinesca e penetrando attraverso una stretta fessura. Il malvivente è riuscito a impossessarsi del fondo cassa e per non lasciare traccia del proprio passaggio ha portato via anche il registratore collegato alle telecamere di videosorveglianza, uscendo poi comodamente dalla porta antipanico. Un colpo messo a segno da parte di qualcuno molto magro che dà l'idea di aver studiato bene le caratteristiche dell'ambiente. La dinamica, peraltro, ricorda quella di un altro assalto, subito dalla Fioreria Veronese in Cale Cesare Battisti a Chiorgia, lo scorso 21 settembre. Sono stati ben 359 in meno rispetto al 2017 gli interventi compiuti durante i mesi estivi dagli operatori sanitari del 118 nella spiaggia di Sottomarina e in quelle limitrofe. Lo comunica la ULS-3 Serenissima che ha reso noti i dati dell'attività svolta fra giugno e settembre. Il calo non è generalizzato in tutto il litorale, anzi al Lido di Venezia, a Cavallino ed Eraclea, il saldo è superiore. Sono state 2392 le operazioni che hanno visto coinvolti il personale medico e paramedico nei Lidi di Chiorgia a fronte delle 2751 dell'anno precedente. Nel territorio di pertinenza dell'ULS-3 sono state anche inferiori le uscite dell'elicottero d'emergenza. I mezzi hanno preso il volo da Padova e da Treviso solo 55 volte contro le 77 di 12 mesi prima, nonostante i 5 decessi e i 19 rischi concreti di annegamento dei bagnanti. Cifre che testimoniano non solo la validità del lavoro del personale preposto, ma anche una nuova coscienza autonoma di residenti e turisti verso le proprie salute e la sicurezza nei luoghi di svago. Importante seduta della quinta commissione consigliare del comune di Chiorgia, oggi dalle ore 15.30 in municipio. L'oggetto della riunione sarà il contratto di servizio con Veritas, la gestione finanziaria della discarica di Carossa dopo la sua chiusura e l'avvertenza che oppone l'ente pubblico e concessionari balneari morosi in materia di tassa per l'asporto dei rifiuti. La defezione di molte imprese, oltre la trentina già certificata, che hanno abbandonato Veritas per servirsi da una concorrente considerata più efficiente, è già costata alle casse e quindi agli altri utenti una cifra stimata in 4 milioni. Per quanto riguarda la questione Carossa, i consiglieri di maggioranza avevano iniziato una ricognizione delle passività emerse, che nel 2013 avevano portato le due parti a un accordo che trasferisce a Veritas 550.000 euro annui in trentunrate. Il Movimento 5 Stelle spinge per l'annullamento di questa risoluzione, ma dietro l'angolo c'è intanto il potenziale aumento dei tributi. Altra battuta a vuoto della Claudiense Chiorgia Sottomarina, che perde 3-1 sul terreno del quotato Campo d'Arsego. Non si è ripetuto quindi il miracolo di Coppa Italia, quando i Granata vinsero allo stadio Gabbiano grazie a un gol di Luca Bullo lo scorso 9 settembre, pure se il giovane talento a Chioggiotto è andato a segno anche ieri, nell'unica o quasi palla-gol creata dai Lagunari. Proprio qui sta il punto. La Claudiense fatica tremendamente a tirare in porta, e quando una squadra forte come il Campo d'Arsego agli occasioni da gol non perdona. Tre azioni da palla ferma o da colpo di testa, come purtroppo si era abituata a dover riportare anche l'anno scorso. Nei primi 25 minuti, tuttavia, la squadra Chioggiotto ha dominato il campo, pur senza impensieri del portiere Cazzaro. Granata ben messi a coprire bene gli spazi con il 4-2-3-1. Pareva un'altra squadra rispetto a quella delle ultime domeniche, Montemelluna a parte, volitiva, corta, determinata, e così pure all'inizio del secondo tempo. Ma i colpi di Caporari, Vutai e Florian, non sono stati equilibrati da parte Chioggiotta. Il 3-1 legittima la superiorità tecnica del Campo d'Arsego con molte occasioni da rete, alcune delle quali sventate da Camerlengo. Mario Vittadello conferma tuttavia che la sua squadra non era assegnata. Un'ottima notizia per lo spirito, in funzione del prossimo scontro salvezza, nell'anticipo di sabato 10 novembre allo stadio Ballarin contro il Belluno. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!